Il Tuscany Rock Tour di oggi è a Monte Riggioni. Questo borgo sorprende immediatamente i visitatori, che lo vedono svettare imponente in cima alla collina. Dante Alighieri fu realmente impressionato da questa imponente struttura. che vide nel corso di una violenta battaglia, tanto che utilizzò le sue giganti forme per raccontare la sua discesa nel nono cerchio dell'inferno. Monte Riggioni è uno degli esempi di architettura militare meglio conservati nel mondo, le cui mura vennero innalzate tra il 1212 e il 1219, per poi essere rinforzate nel 1260-70. Ha ancora 11 torre intatte che servivano da vedette contro gli assalitori e da cui oggi si può ammirare uno splendido panorama sul territorio circostante. Monte Riggioni era, ed è tuttora, lungo la Via Francigena. Il paese è talmente perfetto da essere stato utilizzato come location in diversi film e anche in un episodio del popolarissimo videogame Assassin's Creed. Io mi rimetto in marcia e ci vediamo alla prossima tappa. Io mi rimetto in marcia e ci vediamo alla prossima tappa. Io mi rimetto in marcia,